tale standard avuto in un handicap sarà ripetibile in una corsa dove le frazioni meno omogenee sono più determinanti di quello che avviene in una corsa handicap Guizzo Vincente e Star Wars Seeker sono le terze forze del campo Bottico Screaming Eagle, Saceful, Diego Dettori e Sergio e Wind Fighter di Maurizio Guardieri le alternative partite del criterium 1500 metri sono partiti, Guizzo Vincente prova ad andare in vantaggio dall'esterno dietro Salfor Seeker lo vediamo che si è messo dietro Uvergette de Kee Guizzo Vincente, Uvergette de Kee all'esterno con Can che muove 1, 2, 3 le prime posizioni poi Wind Finder con all'esterno Saceful, Salfor Seeker a largo Screaming Eagle Guizzo Vincente con Can andando nella scia Uvergette de Kee 1, 3, 2 quando si entra nel bosco poi Salfor Seeker all'esterno Screaming Eagle poi Wind Finder con alla sella Saceful 7 cavalli raccolti quando si va all'intersezione delle piste Perovic ci fa vedere chi c'è davanti Guizzo Vincente che accena uno scarto all'intersezione con Can che va all'attacco dietro le due Uvergette de Kee che ha un'autostrada lungo lo steccato avuta dall'allegamento di Guizzo Vincente Guizzo contro Uvergette de Kee con Can in mezzo alla pista poi Salfor Seeker con Guizzo Vincente in leggero vantaggio su Con Can all'esterno allo steccato Uvergette de Kee della partita anche Salfor Seeker poi Wind Finder con Guizzo attaccato all'interno da Uvergette de Kee poi da Salfor Seeker e con Can Uvergette de Kee attaccato da Salfor Seeker Uvergette de Kee in vantaggio su Salfor Seeker il palo si avvicina Uver Salfor Seeker e poi da rivedere per il terzo da vedere tra il 2 e il 4 la sensazione è che è stretta ma il tempo di galoppo gioca un ruolo determinante e la rivediamo dal basso 2-4 la sensazione televisiva per la terza più indietro per favore è altresì stretta tra Wind Finder allo steccato e Guizzo Vincente al suo esterno e Guizzo Vincente al suo esterno e Guizzo Vincente al suo esterno